Hello guys, benvenuti in questo nuovo video, continuiamo le opening appunto dei nostri box del 25esimo anniversario di Yu-Gi-Gi-Oh, abbiamo già aperto quello della leggenda del drago bianco che tutto sommato è andato nella media secondo me, poteva andare meglio assolutamente sì, però è anche vero che poteva andare anche peggio. Prima di continuare con l'opening se non siete iscritti al canale vi prego di iscrivervi, porto appunto contenuti retroformat da Edison a Got in Futuro, Tango Plant, quindi tech profile ma anche unboxing di questo tipo o anche di prodotti coreani. Ovviamente sempre lasciate un mi piace per farmi capire che questo tipo di contenuti mi piacciono così che possa portarmene altri. Parlando quindi ora dell'espansione Metal Raiders è la seconda, se non sbaglio, espansione rilasciata del gioco, dove finalmente andiamo a vedere un po' di ciccia nel nel gioco in confronto alla leggenda del drago bianco occhi blu. Ecco il drago bianco occhi blu che è uscito da me. Quello che spero di trovare diciamo è il drago teschio nero che per quanto sia una carta che obiettivamente non si gioca praticamente da nessuna parte, è una delle mie carte preferite dato che teschio evocato, drago nero occhi rossi e il drago teschio nero anche, sono una delle mie carte preferite della prima serie. E non mi ricordo il contenuto di tutte le singole, tranne che per qualcuna delle espansioni che appunto vi ho citato sia nel video precedente, ma anche in questo. Quindi spero solo di trovare il drago teschio nero dato che è una carta che mi piace un sacco e uno dei mostri caos per quanto riguarda l'invasione del del caos. Ovviamente sempre protagonista dei nostri video le forbicine blu dell'IKEA, grande, IKEA sponsorizzo, no scherzo. Qua cominciamo a vedere, ok abbiamo già una super e cominciamo a vedere anche un po' di mostri con effetto rispetto al box del general drago bianco occhi blu, dove praticamente è pieno 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 ziffo di gialloni che sono pure brutti certi, mamma mia c'è la sirenetta affascinante, non so come fosse tradotta in italiano però porca miseria che brutto. Non che questo sia bello eh, tante spade, questo c'era un mint finalmente, questo non mi ricordo se si giocava da qualche parte, non ha già sta ring light che, o meglio l'inchiostro su ste carte, porca miseria che riflette, guarda là una cosa terribile, la ring light che ho messo. E vabbè, quindi prima che continuo ad aprire le bustine la cassa di un anzi, mentre lo faccio però, scrivete qui sotto nei commenti secondo voi quale carta secret che andrò a trovare all'interno del box perché ricordo c'è ancora appunto il radio vecchio delle carte, ma sto coso mamma mia sei inquietante, cioè pare tipo quando c'è la polvere negli occhi e sei allergico oppure ti sei fatto tipo il magico cannone, io di base non fungo però, porca miseria, e che cazzo c'era la secret, l'ho chiamata, io volevo fare un po' più di suspense, no la seconda bustina, vabbè, abbiamo il drago milenario, carta di joy, mi piace, non so quale, non mi ricordo quale fossero le altre secret, però che cavolo, cioè manco iniziato il video già ho trovato la secret, ma che cavolo, cioè meno male che ve l'ho detto ora e non mi sono ricordato dopo di dirvelo, vabbè, pesce brutto fatto, la compagno, il legul, questo giuro lo devo regalare a Kurojin, porca miseria, legul, che giocatore, questo mi ricordo che da piccolino ero fissatissimo, ero fissatissimo perché, cioè, obiettivamente nell'anime di Yugi, dato che non sapevamo regole, era tutto figo, tutto fortissimo, senza regole, giustamente, però mi ero innamorato di quella carta lì perché era inquietante sì, ma rotta 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 rotta, per come era nell'anime perlomeno, oh mio dio sto coso, quanti ricordi, lukamuka, tributo al dannato, not bad questa, questa è un'altra carta utile per Goat, soprattutto penso se giocate, mi pare, zombie questa venga giocato un sacco, veramente carina come carta, per l'epoca c'è un sacco veramente già Goat, cioè se siete appassionati appunto di questa epoca di Yugi, diciamo così, Goat forse è il formato che potrebbe interessarvi di più, io diciamo preferisco di base l'Edison e il Tenguplant, ma non nego che vorrei avvicinarmi un pochettino, vabbè all'hat sto preparando qualcosina ragazzoni, l'avete visto anche un po' dai pacchi che ho fatto vedere in arrivo, che a proposito andatevi a recuperare l'opening dell'ordine da card trader, che, oh il thunder dragon qua si trovava giustamente, che figo comune, ecco parli di thunder dragon e arriva il drago bifronte, comunque vi sto dicendo andatevi a vedere il video quello la, quanto riguarda l'opening di card trader e un formato che mi interessa un sacco invece è il perfect circle, oddio c'è una fusione, oddio pensavo fosse lui, invece no, attenzione, attenzione, legul, olè, la merda, il legul, legume, cavolo, non è un gioco che non è molto salutare trovarselo nel piatto di pasta, il legul, soprattutto con questo inchiostro, c'è il volo infuocato, da piccolino una delle carte false che più giocavo, questo utile per gold, lo teniamo da parte, ok mancano tre bustine per la prima fila, e il perfect circle comunque per chi non lo sapesse è il, diciamo, il formato in cui c'era il light and dark dragon che, diciamo, padroneggiava un pochettino la scena, un pochettino come l'ho detto, ok abbiamo il musician king che è una carta che paradossalmente fino a poco fa, ragazzi, io ve lo giuro, era una common del cacchio, ma pochi venditori la vendevano al prezzo che si merita, ossia a pochi centesimi, letteralmente tipo la tro... oooh il соврем's school, il becoming common, io ti vai metto qua, perché sei bellissimo, è bellissimo chi dice il contrario non ha mai capito sto gioco andate a giocare a Magic scherzo guardate che cacchio volete di base però questo mi mostri triste questa è una maschera questo poso secondo me per quanto brutto secondo me è uno degli artwork più inquietanti e geniali di Yugi tanto che durante uno dei miei progetti di videogiochi però appunto per chi non lo sapesse faccio game designer game and level designer come professione da svariati anni per fortuna e mi ero ispirato letteralmente a quella carta lì perché è veramente inquietante ok abbiamo il Kasejin e non pensate male dai forbici dell'Ikea sbustatemi il drago testio nero io so che voi potete Inchap io credo in te nelle forbici tue Ikea Ikea vai 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 e lui non è vero sta tro... no no io voglio il drago testio nero perché mi piace tutto ciò che è dark è meglio di dire che non mi piace tutto ciò che è nero mi piace tutto ciò che è dark mi viene questa no io voglio il drago testio nero black school dragon poi se è una secret io sono imbecille che per tutto il video lo cerco ma non lo trovo però io spero sia ultra perché lo voglio trovare la grande falena ah era rara sta schifezzi sta... cioè gli insetti fanno veramente stifo ragazzi cioè almeno a me a me fanno stifo non so a voi però possiamo evitare che mi si avvicinano poi voi voi fate quello che volete mi piacciono i rani tenetevi quello che volete a me fanno veramente il prezzo e quello che trovo è infatti una larva di cazzarola ma questo lo star boy se non erro per un periodo non era ricercato oh no boh mi ricordo forse mi confondo con qualche videogioco tipo Yuji X Academy che era un gioco bellissimo per DS veramente bellissimo mi ricordo c'è anche il limite delle 80 carte lo super nabbo ci giocavo benissimo con 80 carte mamma mia che giocatore giocatore quello vero però tu Eevee Storm si trovava qui quindi non nell'altra quindi facciamo ancora cioè per dire quindi ancora più merdoso sto boh Eevee Storm che è un po' uno dei meme del canale ma in generale del gioco obiettivamente dove ti va a chiamare la Eevee Storm a top deck soprattutto da spettatore tipo è una delle cose più belle l'ho fatto durante la dragon cup che è il mio torneo appunto formato Edison nell'ultimo caso e se dovessero interessarvi questo tipo di eventi mi raccomando appunto di lasciare sempre un mi piace ai social i miei social e in particolare a seguirmi su su disco cioè unirvi al mio server disco dove appunto con la community andiamo a organizzare tutti eventi di questo tipo e obiettivamente potete anche interagire direttamente con me anche su instagram certo però su disco siamo in compagnia del thunder dragon mamma che bello comune mi da un sacco di vibes un sacco di vibes veramente da vecchio di merda che sono sì perché sto canale è da boomer cioè non lo devo chiamare your retro format channel il mio your boomer yugioh channel cazzo così che si va voi giovani in ste mille vocazioni no a parte di scherzi io ci ho provato a giocare nel scenario di rupico allo stato attuale però vabbè vabbè diciamo che con questa siamo molto contenti il giudizione solenne il barbutello però niente drago teschio nero quindi cosa preferiresti per i due? drago teschio nero perché il giudizio solenne già ce l'ho bastardi io voglio il mio drago teschio nero ma ormai è impossibile dato che abbiamo trovato l'altra ultra olè sempre larve del cacchio inclusioni a go 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 per got che cioè noi le mettiamo in extra deck ma non verranno utilizzate mai tranne le stesse oddio sto pesce è una delle mie prime carte di yugioh in assoluto mi ricordo manco uscisse da qui trent mamma che brutti trent di yugioh in assoluto mamma mia jinso 7 mamma che brutti trent di yugioh in assoluto oh ma un terzo thunder dragon common giusto per avere dei vibes ecco il cervellone che ricorda quello di berserk diamo piano ma non dovrebbe esserci nulla il soldato cannone quel coso bruttissimo e basta allora diciamo carte abbiamo come super la tartaruga la secret questa qui tributo addannato tesco evocato bellissimo con giudizio solenne quindi bene o male non è proprio malvagio questo box anzi questo direi che è andato molto molto bene molto molto bene direbbe qualcuno e niente ragazzoli scusate se ci sembra che faccia i video diciamo così di fretta ma per l'appunto come ho già detto nello scorso video devo fare diciamo un viaggio di lavoro di tre giorni quindi sto registrando tutto stasera per quanto riguarda l'unboxing così da potervele anche caricare con un certo ritmo e regolarità non so se le vado a caricare tutte in una volta le aperture però diciamo vedremo il tempo di editing che mi serve per ognuno quindi vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto andatevi a recuperare dei profile qualora vi dovessero interessato riguardo il formato Edison e Gotto ancora non ho caricato nulla ma spero arriveranno presto e niente arrivederci e al prossimo unboxing con Spear Ruler see you next time